Oh, ok, dobbiamo battere un iraniano, mi sembra che si chiami così le persone che vengono dall'Iran, ok, no, stupidi terroristi, beh sì, terroristi esistono in Iran, comunque, bella a tutti ragazzi, oggi ci troviamo su Gunslinger, Gun, non Gun, ricordatevelo, ok, uno statunitense, wow, I just, I just dreaming, sapremo già che lui sarà bravo perché gli statunitense, ho detto male, ok, via, ma se gli colpisce le gambe non succede un cavolo, Oh, è vero, ha fatto la guerra, stupidi, c'è anche il pesce, ma va via, va, un altro statunitense, ci sono solamente, vabbò, questo gioco è internazionale, vi faccio, no, aiuto, aiuto, aiuto amigos, perché, perché non te stai a casa a rompere le scatole, vabbè, Ah, ma sempre statunitensi, ma metti, il mondo ha più po', il mondo ha altre popolazioni, non solo statunitensi, ah, uffete, adesso lo batto, adesso lo batto, oh, no, ultima barra della vita, yes, ok, Rimpi il kit, ok, radiosalute fatta, oh, un tedesco, seconda guerra mondiale vuol dire che è dura, ok, sarà durissima, ok, Oh, l'ho preso, no, è epica sta scena, qualcuno, qualcuno vada, qualcuno vada a recuperare sta scena, ok, siamo contro un messicano, mi sembra, ok, ok, yes, 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 Mi sa che era un cartello, adesso questo video non me lo monetizzano, stupidi messicani del cavolo, ancora stima americani, ma basta con stessi statunitensi che, mi avete rotto il cavolo, Dejavo, no, aspetta, aspetta, cerchiamo di prenderlo, oh, yes, yes, we can, we can do it, ok, ok, sparatorie internazionali, lo chiamo sto episodio, Che poi farà, tipo, solamente due views come i miei ultimi video, già, cinque secondi e già, e già sono stato sconfitto, ma va via, che cavolo di cosa è questa, Ok, però abbiamo sbloccato qualcosa di bello, tiro di abilità, dopo sbloccavo la lobster gym e facevo tutte queste miliardi, miliardi di, miliardi di cose, Il tipo di abilità gioca una serie di incredibili, no, no, le taggo, That's un gioco in cui si, wow, la pubblicità mi fa scoprire nuovi giochi, si chiama Marden Hornet, lo faccio questo gioco, che è abbastanza bello, comunque, Dunque, chi sarà il nostro sfidante, sarà, ah, sì, dobbiamo, ah, sì, via, Ok, ok, Tyler, dagli Stati Uniti, ovviamente, Oh, merda, ok, ho detto una parola che non si dice, quindi, oh, ancora ucraini? Vabbò, forse, forse, forse sono anche, come, come ho fatto? Voglio rivedere il video subito per vedere come ho fatto a fare sta cosa, Ovunque, ancora uno statunitense, subi di statunitense del cavolo, Ok, ma, 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 ma perché, ma perché faccio solamente due dannetti? Forse devo spararli di, di più, vabbò, Ragazzi, per tutti, per tutti gli altri video faremo solamente reaction a un canale che mi piace, Zenitsu, dal Giappone? What the fuck? Ok, io ho già, io ho già, forse io ho già fatto così, no, Adesso facciamo, mi scambio la bandiera con quella del San Marino, Sarebbe una cosa illegale, però, vabbò, Allora, siamo contro gli statunitensi, via, 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 ok, Oh my goodness, cioè, io ho fatto giapponesi, ucraini e statunitensi, Oh, ho un russo, da Vittoria è davvero molto russosa, ho detto una nuova parola, russosa, Mi sono distratto, mi sono distratto, adesso perdo, adesso perdo, aspetta, forse riesco a vincere, Eh, yeah! Ok, shikita, shikita, vabbò, Uh, un altro russo, ok, Oh, ci fa tutto in 5 secondi, Guardate il video e poi scoprirete perché io sono un pro a questo gioco, Un argentino, It's time for my king of arat abilities of destruction, E anche questo è vinto, yeah! Boys, Ok, adesso, duello finale, Contro un tedesco, Questo è Adolf Hitler, Ok, via, Ovviamente ho perso contro i tedeschi, Noi tedeschi siamo i migliori nelle spalatorie, Ah, ma ho tipo sbloccato una cosa di nome Lobster Gym, Ok, capito? Ok, Andiamo ai prossimi, Eh, Ah, ovviamente, Un gioco a caso, Un gioco a caso, Run or get cut, Cut and mouse, Punto io, Ok, Sarà il prossimo, Questa sarà la mia prossima serie, La porterò per i 550 anni seguenti, Comunque non preoccupatevi, Se devi 504, Dovrebbe vedere la mia playlist, Gli reggirei subito, Ok? Prendelo, Pres, No, Da, Via, Ma no, Stava, Stava un picco dalla, Dalla sconfitta, Ma, Allora, Rive, Aspetta, Voglio, Allora, Quando pubblico il video lo rivedo, E poi vedo dove ho sbagliato, Come ho fatto a perdere, Questo gioco è difficile, Con nazioni che io non conosco cos'è, Con lo scheletro, What the fuck, Ok, Ma perché, Come ho fatto a vincere, Come ho fatto, Dunque, Questo me lo ricordo bene, Poi chiedo a qualcun altro, Ok, Un picco dalla sconfitta, L'avevo eliminato, Wow, That's very legal, Illegal, Messi, Cosa, Ma Lionel Messi, Non doveva andare, Alla Juve, Non doveva fare le sparatorie, Sto, 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 Wow, E' il puzzola sconfiggio Messi, Ah 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 ah, E' il tizio fa che danza, Mhahm, Maham, 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 Ah, Wow, H201 è stato sconfitto da un noob It doesn't have me dance With my hump My hump My hump My hump Vabbò basta cantare my hump Altrimenti il video viene messo sotto copyright No stava Stava un quarto dal potente Stava poco dall'essere sconfitto Vedo Rivedo quando Ok abbiamo 5.000 sconfitte Ma ovunque Può essere anche tutto dal vostro Stefano Ma Facciamo uno E vabbò Jigs Che vuol dire che è una musica Questo che non riuscirò subito a sconfiggere Comunque se sconfigo questo Il video potrebbe anche finire Ciao